Quando vengono sento, visto che tu hai alzato per 9 e ora schiacciando, come se l'hai visto? Intanto, quando le cose riescono, sono accendacce per fare qualcosa di diverso. Per quanto giro sta partita? Questa è la prima partita, sono crescita con me e altro, facciamo il tempo, il primo set e il terzo, sicuramente, infatti, è un'attività più agressiva, però è stato troppo, ma non vale anche. In quale momento è molto importante, sono in attività del senso, per mantenere la costanza molto presa e tutto male, hanno un posto che sentono più un po' e pieno dei... Mi piace quelli chiamati i piccoli momenti di contatto? Sono piccoli, però... Per 10... Per loro vanno sempre più, però quando vengono a tutti i cittadini, la palla scorta... Questa sera si è stata inserita in contra tantissime volte? Sì, nel finale, non ci sono due, 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 non ci sono due. Sì, nel finale, non ci sono due, non ci sono due. E guardi un po' più in là, nel futuro, cosa vedi per questa scuola? Non ci sono due, 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 non ci sono due. Questa seconda idea che oggi ha vinto di promovere per club davvero inondabile? No, posso dire, da qua, 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 da qua. Abbiamo ancora la thing. Inoltre in secondo, ieri. Noi sono due. Una squadra di incontro per farle, diciamo, a farla di più. Grazie mille. Per il progetto di squadra che è importante, insomma, in questo territorio ha veramente scusato. Sì, molto. Fino ad oggi, non sono prima della gara, la squadra che mi ha piuttosto studiandola, ne mancano alcune, ma ero come questo finora, Casal Maggiore era una squadra che mi ha visto uscare meglio, e in possibilità di fare tutti i punti, e loro mi rendono piuttosto felice. La squadra è la sua, che con il 3 a 2 dell'ultimo avvento incontro, è il 3 a 2 stasera, comunque ci sono un po' di rato alla 19. Sì, sono d'accordo, stiamo dando dimostrazione di SC e di avere una bella attitudine, delle belle caratteristiche anche dal punto di vista della combattività, della migliorazione, della mentalità. La cosa che dobbiamo continuare a migliorare è la qualità del gioco, perché oggi ci sono stati diversi momenti che possiamo fare un po' meglio. Nel terzo set, abbiamo abbassato troppo la pressione in valuta e l'attenzione della difesa, perché Casal Maggiore è molto fuori, con una qualità di migliorazione perfetta maggiore, e così è evidenziata la caratteristica dei suoi schiacciatori che era stato venire in ombra nei primi tre set, quindi abbiamo rischiato di compromettere una gara che costava appunto, forse provare tutto a poter dare anche il primo set potrebbe essere in vantaggio al nostro amministratore, ma come si era messa, ecco, a posire una mano sull'esprimatore, più in fermezza nel terzo set, sia stato bravo veramente di nervi salvi di ormai di rimanere qui al futuro, grazie